Ora leggerò Angeli e Demoni, un capitolo tratto dal libro Alieni o Demoni di Corrado Malanga, La battaglia per la vita eterna. Il capitolo si trova a pagina 63 del libro cartaceo, poi c'è un equivalente libro in formato pdf che si chiama Alien Cicatrix, che è suddiviso in più documenti e potete trovare su internet. E anche questa versione cartacea si trova con il nome Alieni e Demoni in versione bdf su internet. E a pagina 63 c'è questo capitolo. Angeli e Demoni. Giunti a questo punto dell'analisi psicologica, è bene aprire una parentesi sulle diversità fra un addotto e un addotta. Innanzitutto, l'esperienza di una femmina addotta è, di per sé, più traumatica di quella di un maschio che subisce la stessa sorte. La donna si sente invasa nel corpo, oltre che nella mente. Descrive nei minimi particolari quando viene fecondata artificialmente dall'esterno, con un apposito marchigennio a forma di tubo che le spinge qualcosa all'interno della vagina. L'esperienza è traumatica perché l'addotta vede e capisce che si sta lavorando sui suoi genitali. L'ipnosi mette in evidenza la paura che il proprio corpo venga profanato. La donna piange, s'agita e si dispera come se stesse, rivivendo la terribile sensazione del presente. E poi, ancora, descrive quando, dopo circa tre mesi, lo stesso tubo le viene reintrodotto nella vagina e qualcosa, stavolta, le viene succhiato via. Un'attenta ricostruzione in ambiente ipnotico svela che quel qualcosa è un feto. Un feto, però, con connotati differenti da quelli tipicamente umani, è molto più piccolo ed ha caratteristiche decisamente aliene. La donna che subisce questa specie di stupro sviluppa sempre, indifferentemente dalle caratteristiche del feto partorito, un rapporto d'amore madre-figlio verso la cosa che le è stata tolta. Anche se l'embrione alieno è decisamente diverso da quelli umani, da quel momento in poi lo considererà un figlio proprio a tutti gli effetti. Perché ciò avvenga, non è assolutamente necessario che il ricordo sia ricostruito nei mini in particolare mediante l'ipnosi o la PNL. Basta un sogno, un sogno che, in effetti, viene quasi sempre raccontato dalle donne durante i primi colloqui per farle diventare intimamente consapevoli di possedere un figlio perduto, un figlio che non è di questo mondo, quindi un figlio alieno. Nel test di autovalutazione, al quale sottopongo gli addotti, è inclusa una domanda che suona più o meno così. Hai mai sognato di avere un figlio che non è tuo? Quale potrebbe essere la spiegazione? La moderna psicanalisi, cioè quella che appartiene a un periodo storico ormai trascorso, direbbe che la voglia frustrata di maternità della donna produce il sogno della maternità stessa a compensazione del desiderio non esaudito. Il maschio, necessario affinché una donna rimanga incinta, sarebbe sublimato dalla figura dell'alieno, un uomo superiore, il migliore per il figlio che lei desidera, un uomo quasi Dio perché straneo a questo mondo, all'interno del quale la donna rifiuterebbe la figura maschile. Ora, però, bisogna sottolineare che la figura maschile, in questa società, viene rifiutata come conseguenza di stereotipi familiari che non sono stati minimamente compresi e digeriti dalla femmina figlia. Neumann, storico allievo di Young, parla degli stati di sviluppo femminili descrivendo la donna del primo tipo, secondo lui ce ne sono tre, come quella che crede che il mondo sia solo al femminile e che l'essere maschile serva solo per la riproduzione. In questo contesto è evidente che la dotta, appartenente al primo tipo di donna di Neumann, è molto spesso colei che crede di vedere la beata Vergine Maria e dà quindi importanza a una figura che sublima il maschio in un extraterrestre Dio semidio. Per la storia, infatti, Maria fu fecondata da qualcuno che non era umano. Le donne che credono nelle visioni della beata Vergine Maria, guarda caso, sono per il 90% femmine castrate nell'animus, cioè non conoscono la parte maschile che hanno dentro di sé. Sognano maschi senza volto e ritengono che la Madonna sia da imitare in quanto essere femminile perfetto, rimasta incinta senza un vero rapporto sessuale con un uomo. La bimba, che abita con un padre padrone e una madre serva, spesso si ribella a questo status. Rivendica, la maggior parte delle volte, purtroppo inconsapevolmente e quindi in modo maldestro, il proprio ruolo di donna finendo con l'odiare la figura del maschio, tanto da sublimare quella femminile rendendola una Madonna stereotipamente falsa. Ovviamente si tratta della Madonna descritta dalla Chiesa Cattolica, non della vera madre di Gesù, gravata dai problemi di quel tempo, accudire un bimbo, lavare i panni, essere, in un mondo ebraico maschilista, comunque succube di un marito padrone di pecore e di femmine. Dunque, la donna adotta del primo tipo di Neumann tenderà comunque a credere che l'estraterrestre è la retta Madonna e che lei, di conseguenza, è madre di qualcuno assimilabile a un dio. Questo tipo di figura è caratterizzato da difficoltà nei rapporti con un partner maschio. Vorrebbe comunque, in alcuni casi, avere relazioni di questo tipo, ma alla fine si dilegua in una fuga motivata da paure basate sulla necessità di rimanere pura. Anche in questi casi, la psicanalisi contemporanea pensa di trovarsi di fronte a persone affette da forti turbe sessuali e da processi castrativi che frustano il manifestarsi della normale femminilità. La spiegazione, in talunni casi, può essere decisamente differente. La donna si sente incosciamente addotta e ha capito che qualcuno ha fatto qualcosa ai suoi genitali che va contro la propria volontà. Di conseguenza, si tratta di violenza carnale. Tale violenza è sovente inaccettabile, ma il processo di dissonanza cognitiva che è dentro di noi fa miracoli e tenta di raddrizzare la situazione. Una verità sgradevole viene reinterpretata dal subconscio in modo da renderla tollerabile dal soggetto che l'ha vissuta. In pratica è il principio sul quale si basa la favola, la volpe e l'uva. L'unica possibilità di accettare la violenza subita sia se a compiere la violenza è stato Dio in persona. Dio non ha importanza se sotto forma di alieno o di figura angelica, perché, oggi come oggi, il Dio delle nuove generazioni appare sempre più simile a un alieno tecnologico che è stato in grado di creare, miliardi di anni fa, la razza umana. Dunque, un padrone spaziale ha fatto quello che era suo diritto fare a una creatura di propria produzione, la femmina dell'uomo. Ecco, riapparire la sindrome di Anna e di Maria, due delle tante donne del Vecchio e del Nuovo Testamento ingravitate dal soffio divino. Il sociologo oggi spiegherebbe queste situazioni con l'intentativo della donna sottomessa di recuperare dignità nell'antica società ebraica patriarcale per mezzo della dimostrazione che, in fondo, lei è una pedina nel volere di Dio. Questi, per creare, sceglie la donna e non ha bisogno dell'uomo. Il fatto stesso di proporre in una società del tutto maschilista, come quella ebraica antica, la figura di una donna che, nell'atto della procreazione, è svincolata dal maschio padrone ed è, invece, privilegiata da Dio, rappresenta un escamotage psicologico di notevole Valenza. L'archetipo di Sant'Anna si ripropone, dunque, anche nelle società poco colte e maschiliste del Mediterraneo Cattolico, nelle quali le visioni della Beata Vergine certamente non mancano. Sovente vedere l'invisibile appare come una richiesta di sostegno e, se la società non ci aiuta nell'essere accettati come persone e non come cose, ecco che nella mente prende forma la possibilità di essere chiamata in causa dal Dio o dall'estraterrestre di turno. Non esisterebbe una soluzione alternativa se non la morte per il suicidio, quello prodotto non tanto da noi su noi stessi, ma piuttosto dalla società sul singolo individuo. In certi ambienti, la figura femminile, se dotata di carattere ed elevato spirito egoico, può tendere giustamente a riaffermare con forza e anche con violenza la propria posizione nella società decidendo di non rimanere accanto a un maschio padrone nel ruolo forzato di serva nascostamente infedele. Tenere a mente questo concetto può essere a volte molto utile se, ad esempio, la dotta racconta che Gesù è venuto a trovarla. Secondo me il risultato di questo vissuto, poco compreso e metabolizzato, va probabilmente rivisto e corretto. Gesù è alto e biondo e vestito di bianco, ha gli occhi con la pupilla verticale e cura la mia mamma che è affetta da un cancro con la macchina per curare le malattie. La madre effettivamente è guarita da un cancro. Nel sonno mia madre è in un cilindro di vetro, tutta nuda, sospesa in un liquido e attaccata a dei fili. Quella è la macchina per salvare la vita di mia madre. Poi vengono i diavoli, ma io li scaccio leggendo il Vangelo. I diavoli sono piccoli, scuri, con una testa molto grossa e hanno dita lunghe, puzzano e hanno quattro dita per mano. Ma io non ci credo che li ho visti perché quando li vedo io prego e loro scappano. Così descrive alcune delle proprie esperienze una ragazza, nipote di due vescovi cattolici con madre fervida credente, che da piccola voleva farsi suora ma ora è sposata, ha due figli e vive in Sardegna. Durante una mia conferenza la ragazza assistette alla descrizione degli alieni che delineai come sempre utilizzando le dichiarazioni degli addotti e subì una forte crisi isterica. Il mondo della realtà autentica, da lei in precedenza sempre rifiutato, si scontrava con quello della sua realtà costruita, facendo sì che lei scoppiasse un conflitto sia nel corpo che nella mente. Reazione naturale a una situazione non accettata a livello conscio e tuttavia riconosciuta dall'inconscio. L'archetipo nascosto fra le righe del nuovo e vecchio testamento è incredibile. I figli di Dio vennero sulla terra e videro che le figlie dell'uomo erano belle e si accoppiarono con loro. Fate caso al fatto che in questo arcinotto passo del vecchio testamento non si dice le figlie di Dio videro che i figli dell'uomo erano belli eccetera eccetera. L'enunciato è totalmente dominato dalla figura maschile del Dio maschile di una società maschile e per una donna di Neumann che vuole evolversi non ci sarà altra possibilità se non quella di sognare un mondo femminile comandato da un solo maschio, Dio. Il resto sarà tutto un mondo al femminile in cui le mogli si confronteranno con le amiche, sorelle, nuore e suocere e rimarrà una realtà in cui la figura del maschio risulta presente solo per procreare. Se poi questa figura verrà sostituita dalla divinità maschile ancora meglio. Ecco la liberazione totale della donna dalla schiavitù nei confronti del maschio del quale non ha più bisogno nemmeno per procreare. Se l'addotto poco colto e legato a figure parentali castranti e possessive, non è seguito e indirizzato verso l'esame del vissuto in chiave decisamente più realistica, finisce per ripercorrere la strada che porta soggetti di questo tipo, in accordo con quanto sostiene Eric Fromm nella sua fondamentale opera Essere o Avere, ad associare la figura dell'alieno a Dio, figura di padrone super partes a cui tutto è concesso. Il rapporto con l'alieno diventa, pertanto, ancora più turbolento. Da una parte esiste la necessità di giustificare il suo comportamento, quale padrone totale dell'addotto. Dall'altra fioriscono le memorie del dolore, sia fisico che morale, che si accumulano durante i processi di abduction. Ecco che l'addotto diventa martire di una chiesa che si rifà alle tradizioni locali, ma che ha anche connotati di tipo scientista. Secondo lo scientismo, la scienza, intesa sotto il modello del meccanicismo e determinismo più rigorosi, ha facoltà di spiegare ogni possibile fenomeno e riassume in sé l'intero sapere umano. Nascono così movimenti di tipo ideologico, quali scientologi. L'ideologia di Ryle o quella secondo la quale alcuni stigmatizzati, cioè come Giorgio Bongiovanni in Italia, avrebbero a che fare con le figure alienocristiche del terzo millennio. Se questo è vero, dobbiamo considerare che i contattisti secondo i quali Dio e l'alieno, come soggetti, se non schizzoidi, quantomeno addotti realmente incapaci di comprendere la propria autentica realtà vissuta. Ciò in genere avviene per la mancanza del requisito fondamentale rappresentato da una buona cultura personale. La figura dell'addotto martire è tipica dell'addotto femmina. Nel caso di addotti maschi non mi è mai capitato di mettere in evidenza tale peculiarità, escludendo naturalmente le figure maschili che si sentono contattiste, essendo vittime naturalmente di una turbe schizzoide religiosa e che quindi non sono stato affatto contattate. Queste ultime creano dentro di sé, a livello subconscio, una valida motivazione per la propria dicotomica sofferenza. Dio vuole così, oppure, l'alieno mi ha scelto per i suoi invisibili scopi. Sia Dio che l'alieno sono comunque esseri superiori, quindi perfetti, sono belli ed hanno ragione. Hanno ragione anche nel farmi soffrire, perché evidentemente a noi non è dato capire, ma un giorno capiremo. Per lo psicologo al lavoro su un addotto autentico è dunque facile confondere una situazione di vera adaption modificata da processi di dissonanza cognitiva con una turbe schizzoide religiosa. Può quindi tendere a fare di ogni erbo un fascio. Una donna che, secondo Neumann, appare più evoluta, la definisce del secondo tipo, ma invece un rapporto totalmente diverso con l'alieno che arriva periodicamente a compromettere la sua vita. In generale, gli addotti evoluti, i quali, per fortuna, sembra siano la maggioranza, sono totalmente atei e odiano la religione cattolica, non sapendo bene perché. Tale odio ha radici storiche nell'infanzia di queste persone, che credono in una civiltà buttica di tipo orientale. Sono quasi sempre vegetariani e rispettose degli animali, anche se, in apparente forte contraddizione, amano e praticano le arti marziali oppure la meditazione trascendentale, lo yoga, la respirazione orientale e altre dottrine estranee alla nostra cultura. Tutte ritengono che i nostri governanti siano dei bastardi speculatori assassini e che la razza umana non sia composta di esseri uguali tra loro. Sono, cioè nel senso non negativo del termine, profondamente razziste. L'idea di esseri diversi potrebbe trovare origine nella constatazione di essere stati scelti, ma presto questo pensiero è sostituito dalla consapevolezza di non esserlo stati per le caratteristiche quali bontà, bellezza, rettitudine, capacità di fare o possedere comunque qualcosa in più degli altri. Gli addotti si rendono conto che la loro importanza è legata esclusivamente al possesso di alcuni fattori genetici dei quali non comprendono l'importanza. Allora possiamo dire che appartengono a un gruppo di fortunati o di sfortunati? Bella domanda. Io sono utile a loro e quindi sono utile a qualcosa. L'uomo, a volte, si accontenta di essere preso in considerazione dagli altri, vive in un mondo nel quale nessuno lo stimerebbe o lo aiuterebbe per quello che è, ma solo per quello che fa, purché questo rispetta i canoni di una società per la quale l'unica cosa che conta è apparire ed avere successo. Ancora una volta si instaura un rapporto di tipo sadomasochistico fra il rapitore e l'addotto. Il masochista, in questo caso l'addotto, è in fondo contento di essere stato preso, entra in un meccanismo che lo aiuta a diventare consapevole di servire a qualcosa. Questo qualcosa appartiene alla sfera dell'invisibile, dell'impalpabile, dell'irraggiungibile, in altre parole, al magico mondo dell'irreale. In una società nella quale ciò che è reale gli fa schifo, ha bisogno che una parte di se stesso abiti l'irreale per sentirsi comunque utile. L'alieno che lo tortura e lo usa rappresenta quindi un tramite attraverso il quale egli dà il proprio contributo alla sfera dell'irreale, dove è pur vero che costui lo fa soffrire, ma dimostra anche considerazione per la vittima, seppure nella sofferenza. È sempre meglio fatti oggetti di sofferenza piuttosto che essere trattati come se si fosse praticamente inesistenti. Qualcuno finalmente si interessa di noi facendoci soffrire, ma almeno si interessa di noi. Il soggetto addotto vive dicotomicamente questa sensazione. Ha paura dell'alieno che tornerà e chissà cosa vorrà fargli, ma dopo qualche tempo ne sente la mancanza e lo vorrebbe rivedere. È assurdo, si potrebbe pensare, e si riaffaccia l'idea di trovarci davanti una persona con modelli comportamentali multipli. Se non si chiarisce subito con l'addotto la natura del meccanismo, questi tende a isolarsi sempre di più in una saltazione egoica che lo vuole indiscusso personaggio chiave della vicenda, non semplice marionetta in mano aliena. Si può notare e mettere in evidenza questo tipo di relazione soprattutto all'interno di un gruppo di sostegno formato da più addotti. L'impatto con la stessa realtà da parte di diversi individui si trasforma nel desiderio di fare accettare a tutto il gruppo la propria interpretazione. Ne derivano forti scontri tra alcuni addotti che, generando contrasti, sostengono di essere solamente loro quelli veri per ricavarne una sorta di soddisfazione personale non rendendosi conto che, per loro, sarebbe molto meglio non esserlo mai stati. Capita pure che nel gruppo prenda forma e si esali l'idea secondo la quale l'uno può essere stato addotto da una particolare razza di alieni e l'altro da una diversa, sempre nel tentativo di continuare nella farsa mentale consistente nell'affermazione di essere stati prescelti e non semplicemente scelti come marionette viventi. Il diavolo ha scelto me, sembrerebbero recitare con orgoglio ricadendo, qualche minuto dopo questa affermazione, nella paura atroce del successivo rapimento. Non è raro che questo tipo di addotto baluti se stesso come diverso dagli altri e cerchi di esaltare le differenze che percepisce, mostrandole all'inquidente come prova della propria diversità. Le ostenta con orgoglio come ferita di guerra e inoltre, a sostegno delle proprie teorie, si convince presto di possedere anche facoltà paranormali, di leggere il pensiero e di vedere l'aura delle persone. Intendiamoci, sembra che a volte tutto ciò sia possibile, ma le facoltà paranormali non devono essere considerate come un dono derivante dalla diversità o magari un prodotto dell'essere stati prescelti. Si tratta di ben altro. Probabilmente abbiamo a che fare con le reazioni che la ghiandola pineale sviluppa in seguito alle forti sollecitazioni alle quali l'addotto è stato sottoposto durante il rabbimento. Un fenomeno collaterale secondario, sicuramente non voluto dagli alieni, ma prodotto da una risposta del chimismo della serotonina deacetilasi, reazione decisamente più umana di quanto si possa immaginare. Esistono anche altre ragioni che possono portare l'addotto ad avere reali proprietà paranormali, ma abbiamo già detto che in questo trattato non affronteremo queste tematiche. Fine del capitolo.